...a trovare Mr. Albi, tanti che aspirano al podio importante di questo Gran Premio, Città di Torino. Macchina che accelera, chiusura delle ali, Mondiale Ok Minero S in lotta, poi velocissimo nella seconda fila, il numero 16, Mr. Baby, veloce a largo anche Madri Leno, mentre viene squalificato Mitico Miller. In piegata Mondiale Ok, continua al comando, in seconda posizione all'esterno, Minero S, poi a largo anche Mago d'Amore, si entra sulla retta di fronte, Cavallini doppia fila, con Mondiale Ok Minero S in linea. In terza ruota c'è subito lo scatto di Mago d'Amore, punta deciso in avanti, Oria Lindstrom con il favorito Mago d'Amore, sta passando al comando, e così al comando delle operazioni si ritrova il favorito Mago d'Amore. In seconda posizione il numero 2, Mondiale Ok, si va ora sulla seconda piegata, 29-3, il 400 dopo gli iniziali 60 metri, Mago d'Amore, poi Mondiale Ok, Minero S, percorsi esterne con in scia, Merckx Ok, ancora Mania, poi fuori Mustang Griff, completamente dalla piegata, con Mago d'Amore all'avanguardia. In seconda posizione all'esterno Minero S, davanti alle tribune, Mago d'Amore al comando, in seconda all'esterno Minero S, poi lungo la corda Mondiale Ok, quindi Mania, in fuori Merckx Ok, poi Mustang Griff, avanti a Moses Robb, c'è lo scatto a largo di Macho Gams dopo la seconda frazione in 36. La proiezione a largo di Macho Gams, ne prende la scia, Megan Griff, ma Mago d'Amore al comando, Minero S in seconda posizione a largo, continua a progredire, il double winner Macho Gams che si affaccia in seconda posizione, frazione in 38. In vantaggio Mago d'Amore, Macho Gams in seconda con all'interno Mondiale Ok, si esaurisce l'azione di Minero S, percorsi esterne, la avanzata a largo di Megan Griff, cavalli così al mezzo giro conclusivo con Mago d'Amore al comando, Mago d'Amore in vantaggio, a largo Mustang Griff e Megan Griff che hanno all'interno Macho Gams e Mondiale Ok, in vantaggio Mago d'Amore, per la seconda all'esterno Mustang Griff che sta passando, poi in recupero anche Madrileno, la spuntanto l'errore di Merckx Ok, ingresso in dirittura con Mago d'Amore in vantaggio, al centro pista sempre Mustang Griff, a largo c'è lo scatto di Madrileno, Mago d'Amore in vantaggio, Mago d'Amore avanti a Mustang Griff, poi Madrileno che avanza per la seconda, quindi anche Moses Rob, Mago d'Amore in vantaggio, Mago d'Amore, Moses Rob, Madrileno, Mustang Griff e poi per l'ultimo compenso Mondiale Ok.